Sì, ma Fai Zucoschi oggi c'è stato nella mischia in un momento caldo, ma non gliel'hai mandato a dire a Modena? Sì, guarda, io sono sempre pronto ad entrare, aiutare la squadra. Un punto, un punto. Noi sempre il mio massimo, quindi oggi è stata una partita tosta, però tre punti molto importanti per blindare il secondo posto. Senti, c'è stata occasione per te di stare in campo negli ultimi tempi. Che cosa hai visto di miglioramento di Perugia rispetto all'inizio della stagione? Secondo me sicuramente Muro è difesa. Qui stiamo lavorando tantissimo, però la nostra forza è sempre stata la battuta e un bel gruppo in campo.